ed ecco adesso osserviamo la preparazione del caffè no no è fuori non lo fai come è? oh amiche, non ci vuoi prendere non ci vuoi prendere, non ci vuoi prendere non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo, non cazzo eh, non cazzo, non cazzo, non cazzo oh, belle non fa brutta, non fa brutta fa brutta fa brutta se non cazzo all'ucraina, chi è? fa brutta ma fate un rapporto perché non risponde l'Austria eh? ma fate un rapporto che non risponde l'Austria ma perché non c'è il tuo sangue? si hai il sangue oh, piccola è il sangue no no, non c'è no, non cazzo no, non cazzo non cazzo no, non cazzo no, non cazzo no, non cazzo non cazzo non cazzo non cazzo ma io non cazzo ma chi è l'unico passato a dire le frecce? eh, sì la puoi una, ci provi però se non fai 0 punti ti rompi il culo ma no la puoi una freccia? ecco l'ora te la prendo eccola qua se non fai cento se non fai cento ti rompi il culo ma che se è una freccia? dai affoggio facciamo tutti il tifo per te dai gioca gioca cento 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 cazzo ma hai la buttata là vicino non a me non a me non a me ma hai disfassato la cava ha fatto apposta che mi ha buttato in faccia la freccia vedete ora tengo un buco in faccia e posso mai capire che il buco in faccia allora signori ma non ci schiaffi e non mi è dì non mi è troppo in periccia non mi è periccia